Buongiorno a tutti! Ciao bambini, sono Deborah, educatrice della Bolla dei Medi, asilo del Ministero della Difesa. Oggi andremo a realizzare una bellissima nuvoletta con la pasta colorata. Per realizzare questa attività ci occorre un cartoncino bianco, della colla, della tempera colorata, un pennellino, scotch, della pasta, potete scegliere qualsiasi formato importante che abbia il buchetto, e un filo di spago. Voi potete scegliere qualsiasi tipo di filo, l'importante è che sia rigido. Allora, su un cartoncino bianco, io già l'ho preparata, disegnate una mezza luna. Poi con le forbici, bambini fatevi aiutare da una persona adulta, andiamo a tagliarla. Adesso prendiamo dei bagufoli di cotone e con la colla andiamo ad incorrarli sopra la nostra nuvoletta. Ecco la nostra nuvoletta, bambini! Allora, poi prendiamo la pasta, la tempera, io ho deciso di colorare la pasta di diversi colori. Allora, prendiamo ad esempio il viola e coloriamo la pasta. Una volta colorata e asciugata la nostra pasta, io ho deciso di colorarla in sei colori differenti. Voi potete scegliere qualsiasi tipo di colore. Prendiamo lo spago e con le forbici, bambini fatevi aiutare da una persona adulta, andiamo a tagliare sei striscioline come i colori della pasta. Ecco le nostre striscioline, adesso andiamo a mettere la pasta. Io ho deciso di farla, ad esempio, qui tutti viola, qui tutti gialli e così via. Allora, prendiamo la pasta e la inseriamo dentro le nostre striscioline, proprio in questo modo. Qui, bimbi, io ho inserito tutta la pasta nello spago. Una volta che lo avete fatto, prendiamo la nostra nuvoletta, la giriamo, poi prendiamo lo scotch e attacchiamo ogni pezzettino. Bambini, ecco la nostra nuvoletta con la pasta colorata. Voi divertitevi a infilare e sfilare la pasta. Una volta che avete terminato, potete fare anche un piccolo nodino, in modo che la pasta non esce. Piaciuta, bambini, realizzare questa bellissima nuvoletta? Vi mando un grande abbraccio e un grande bacio.